Francesco Monte Francesco Monte, ultime parole, il confronto con Cecilia e l'inquietudine per le nozze Francesco Monte, giusto un confronto con Cecilia, mi inquieta vedere un abito da sposa. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, atto secondo, il confronto. Se il primo atto tragico della love story tra l'ex tronista e la sorella di Belenzi è consumato a distanza, mentre lei gli presentava il ben servito dalla casa del grande fratello Vip, il secondo atto di questa storia tormentata deve ancora andare in scena. Monte, infatti, nonostante la sua ex ha dichiarato che non crede di dovergli alcuna spiegazione al momento, ha le idee ben chiare su come debba terminare una volta per tutte il loro affaire sentimentale, con un face tu face. . Così, in una recente intervista al settimanale Nuovo, il bel pugliese ha ribadito il concetto, invitando di nuovo l'Argentina ad un incontro risolutivo. . Inoltre, ha confessato che dopo quello che ha vissuto è assai inquieto a proposito del tema matrimonio, svelando di essere piuttosto turbato ogni qual volta gli capita di vedere un abito nuziale. . Spazio anche alle considerazioni dei propri familiari sulle scelte che ha fatto Cecilia. . Francesco Monte, ora mi inquieta vedere un abito da sposa. . Mi allieta sapere che il pubblico mi ama e mi sostiene, ma Cecilia è comunque la mia ex ragazza. . Mi ha fatto soffrire, è vero, ma soffro anche quando la attaccano. . . Francesco Monte, svelandosi al settimanale Nuovo, poi aggiunge, io attendo di vederla fuori dalla casa del GF VIP. . È giusto che ci sia un confronto tra di noi. . . Eppure largentina non è proprio della stessa opinione. . Cecilia infatti crede che non ci sia più nulla da aggiungere su quanto accaduto e dunque che al momento non ci sia bisogno di un ulteriore ultimo chiarimento. . Comunque ai microfoni di Verissimo ha poi dichiarato che una chiacchierata con lex la farà. . Nel frattempo Monte sta cercando di metabolizzare lo schiaffo damore ricevuto, ma non è facile chiudere una relazione di quattro anni. . Una relazione in cui si pianificavano anche nozze e altri grandi progetti. . Per questo il turbamento di Francesco è molto forte, io sono un tradizionalista, per me il matrimonio è importante. . Ora mi inquieta vedere un abito da sposa. . Cecilia Rodriguez, il pensiero della famiglia di Francesco Monte. . Lex tronista parla anche della reazione avuta dai suoi amici e dai suoi familiari in merito alle scelte e agli atteggiamenti fatti dalla sua ex allinterno della casa più spiata dItalia, cercano di giustificare quello che lei ha fatto. . . . . . . Cecilia è una persona fragile, e probabilmente è rimasta schiacciata dal meccanismo del reality. . 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